Le tendenze della comunicazione digitale, sicuramente io userò due keyword che sono mobile e social, social assolutamente, Instagram principalmente. Io, beh, visto il mio background sono di parte, quindi probabilmente la fusione tra gaming e web, già avvenuta in parte, però sempre più evidente, quindi tra videogiochi, classici e utenza web.